Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Dark House 92 Oggi siamo qui per farvi vedere dove si trova la stella segreta della settimana 6 stagione 5 ovviamente Vi ricordo che per vedere la stella segreta dovete completare tutte le missioni della sfida della settimana 6 Ok ovviamente per la stella segreta della settimana 6 Quindi se volete prendere la stella segreta della settimana 5 dovete completare tutta la sfida della settimana 5 e così via Ok perfetto adesso vi mostrerò il punto esatto dove si troverà la stella Io vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale E bella Eccoci qua ragazzuoli nel punto dove si trova la stella segreta e precisamente qui a rapide rischiose Precisamente in questa macchina rossa ok? Voi arrivate qui ovviamente vi ricordo sempre che per prendere questa stella per trovare questa stella in questo punto esatto Dovete prima finire tutte le sfide della settimana 6 Mi raccomando prendiamo la stella Grazie a tutti per la visione Bella regà Ciao